Salve a tutti, stiamo per entrare nei meravigliosi studi WWT. Venite con noi! Scale, una porta, cosa si nasconderà dietro questa porta? Che bel panorama, bellissimo! Attenzione che entriamo, entriamo... Io cazzo è... Ma tu mi chante! Go to Farenz! Farenz! Farenz, ho un cazzo bomb! Uno, due e tre! Farenz, vice, nash, farenz... Ehm, la zona, ragazzi... Rufi, nash! Vodoluziii, culto personality! Stop! Sono venuto! Non è come semmbra! Ecco lui, è Claudio di Biagio. Ecco lui.